Il nuovo musical degli Hawaii, tutti insieme appassionatamente, tu sei? Io sono Davide, nello spettacolo invece impersonerò Friedrich, il primo figlio maschio più grande. Sarò il secondo in scaletta, però tra i maschi sarò il più grande. Quindi un figlio giudizioso, un figlio ribelle? Chi è Friedrich? Friedrich è un figlio abbastanza ribelle, però comunque sia consapevole del fatto di essere il più grande tra i maschi e cerca di tenere ordine tra gli altri fratelli, riuscendoci in qualche maniera. E Davide quanto rispecchia Friedrich nella vita reale? Davide rispecchia Friedrich nella vita reale perché è un personaggio abbastanza confusionario, cerca delle soluzioni senza avere troppo successo nella riuscita. Ti piace cantare, ballare, recitare? Mi piace cantare, ballare, recitare, arrivo da un'esperienza anche di cabaret, ho fatto l'animatore turistico, insomma mi piace stare a contatto con il pubblico e con la gente. Cosa diresti al pubblico per invogliarla a vedere questo spettacolo? Devono assolutamente venire a vedere questo spettacolo perché sono bellissimo e perché siamo un cast veramente che sta crescendo prova dopo prova e troviamo sempre nuovi spunti per continuare a migliorarci. E allora come si dice in teatro, merda merda merda. Merda merda merda. Grazie.